C'è un farmaco salvavita per i diabetici che non si trova. Si mobilita il Tribunale per i diritti del malato. Questa mattina ha presentato alla Procura della Repubblica un esposto attraverso l'avvocato Giovanna Fasanino. Il farmaco è l'insulina basica a rilascio graduale, quella cioè che copre un arco di tempo compreso tra le 20 e le 24 ore. Le farmacie dell'agro ne sarebbero sprovviste. Avrebbero dovuto essere rifornite come da accordi il 22. Allarmante il silenzio che circonda una vicenda che vede in ballo la vita dei diabetici. Qualche segnale preoccupante si era già avuto recentemente, visto che nelle ultime confezioni di insulina basica la metà delle penne, quelle che iniettano il medicinale, era uscita difettosa ed era stato necessario decestinarla. Il Tribunale per i diritti del malato ha fatto delle ricerche collaterali al deposito dell'esposto alla Procura, scoprendo che la casa farmaceutica che produce il farmaco in questione è sotto inchiesta in Germania e questo fatto, tra le altre cose, ha fatto crollare il titolo in borsa. Questo farmaco si chiama Lantus. È l'insulina basica che copre circa 20 ore della giornata perché ha rilascio graduale ed è nettamente correlata all'altra insulina che normalmente i diabetici assumono prima del pasto giornaliero. Serve a calibrarla ma soltanto per il diabete anche di tipo alimentare, è fondamentale ricordare che il diabete è anche di tipo immunitario e in questo momento questo farmaco per questo tipo di diabetici è ancora più fondamentale. I pazienti diabetici hanno l'esenzione per patologia, il farmaco possono ritirarlo in farmacia solo attraverso la registrazione sulla tessera sanitaria. Il tipo di farmaco viene assegnato dal centro diabetologico ed è un dosaggio che viene fatto dal medico che ancora l'ha assistito. L'uno è complementare dell'altro come dosaggio. Varia moltissimo anche perché purtroppo i pazienti diabetologici tendono a sviluppare degli effetti collaterali quindi non può né essere sostituito né tantomeno si può aumentare la dose che normalmente viene assunta prima dei pasti direttamente e semplicemente dal paziente stesso. Ci dicano dove possiamo andare, se dobbiamo rivolgerci di nuovo ai centri, se questo farmaco può essere sostituito, con che cosa perché c'è un silenzio assoluto sulla vicenda che è veramente un allarme sociale. Intanto ai malati di diabete che fossero in emergenza dobbiamo dare un consiglio subito. Esattamente, nel momento in cui possano rendersi conto di avere un picco glicemico o andare in ipoglicemia di rivolgerci in questo momento ai pronti soccorsi e farsi rilasciare una certificazione che attesti questo tipo di difficoltà in concomitanza alla mancata possibilità di assumere la Lantus.